Gesù sale al cielo e dà il mandato ai discepoli. Andate e annunciate il mancello, cioè portate dovunque il sentimento della gioia, della serenità, dell'amore vicentevole. Parlate di aiuto vicentevole. È un messaggio per noi scontato, sentito anche da piccoli, ma dobbiamo vedere e confrontarci che questo messaggio Gesù lo pronuncia quando si parlava solo di guerre, di soprafazione, di lotta contro l'imperatore di Roma, sempre lotta e soprafazione. Continua. E Gesù parla di amore, Gesù parla di essere testimoni, perché solo la testimonianza dell'amore risolve la piaga della società antica e moderna. Gli apostoli quale metodo adottarono per convertire il mondo conosciuto? Forse noi ci pensiamo poco, ma ci riflettiamo. Pochi pescatori e un altro pugno di seguaci che partono per nazioni differenti, senza conoscere la lingua, senza sapere dove mangiare e dove dormire. Partono e convertono il mondo intero. Allora, come è avvenuto questo fenomeno? Hanno preso le varie popolazioni e l'hanno portato alla Biblioteca Nazionale per vedere i documenti della risurrezione di Gesù? O hanno portato altre fonti per dimostrare che Gesù è veramente risorto? No, nulla di tutto questo. hanno amato, hanno portato l'amore nelle famiglie. Nessuno che era bisognoso si sentiva trascurato. La famiglia, la società del tempo era un cuor solo e un'anima sola. Questo è stato il grande miracolo, il grande argomento che hanno portato gli Apostoli per dire che Cristo è veramente risorto. E questo è un punto capillare anche per noi. Noi che facciamo l'esperienza di bombe e lotte continue. In ogni nazione ci sono sempre lotte, discordie, l'uno contro l'altro. È necessario abbassare il tono e mettere al centro della vita di ogni nazione l'amore vicentevole. È l'amore che crea la vita sociale vivibile. Nessuno si sentiva escluso. Essere cristiano è vivere con Dio salvatore in continua conversione. L'amore di Dio si trasforma in azione di giustizia e amore. Non farsi idoli, denaro, sesso, potere, scienza, tecnica, sport. Sono tanti idoli che possono essere anche piacevoli, possono anche soddisfare, ma non sono l'essenza. L'essenza è amare il nostro fratello. La stessa Eucaristia non ha il suo effetto dirompente se non è proiettato verso l'amore dei fratelli. Sarete miei testimoni. Bisogna essere testimoni all'ora di Gesù dove? Sul mondo del lavoro. Essere onesti. Da Padre Pio si presentarono due dipendenti della Casa Solievo in tempo di lavoro. E Padre Pio domandò, oggi non siete andati in ufficio a lavorare? No, siamo andati. Abbiamo timprato il cartellino e siamo venuti da lei per stare 5 minuti con lei perché sapevamo che a quest'ora lei era libera. Quindi allora avete solo timprato il cartellino e poi siete venuti da me. Sì, allora andate via. Andate a compiere il vostro dovere. Siate testimoni della giustizia, dell'amore, della santità di Cristo Gesù.